Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le ultime notizie sulle elezioni politiche del 2022-25 di settembre. Letta dice che serve una svolta o tutto il potere a destra estrema come mai in 75 anni. E dice abbiamo due settimane e due giorni davanti in cui dobbiamo parlare a tutti, col sorriso ma dimostrando tutta la nostra determinazione perché quello che sta succedendo, se non siamo in grado di svoltare le cose, è che il Paese sta avviando verso la consegna alla destra estrema italiana di tutto il potere come mai è accaduto in 75 anni di storia repubblicana. E questo, dice Letta, sta avvenendo perché di là si sono messi tutti insieme, di qua ho passato mesi a cercare di rincorrere tutti i nostri interlocutori e con molti ci siamo riusciti, con altri no. Naturalmente lui agita ancora lo spauracchio dell'attenzione, pericolo per la democrazia, se perdiamo torniamo indietro alla dittatura di 75 anni fa. Insomma, diciamo che lascia il tempo che trova, sono sciocchezze queste, semplicemente pure sciocchezze. Ed è per questo che il PD, secondo il sondaggio di Porta Porta, addirittura è sceso al 19,5%. Altro che guadagnare 4 punti, come dice Letta, per combattere e salvare la democrazia. È sceso. Meloni all'Aquila, dice, la sinistra ci dipinge come mostri. Perché la sinistra ha bisogno di dipingerci come mostri? Si chiede, per me, perché hanno un problema a dire cosa vogliono fare per l'Italia. Stanno al governo da dieci anni e gli italiani hanno visto come si comportano. Così sul palco della Meloni, al comizio, ha l'Aquila. E poi andiamo a vedere sempre la Meloni che dice Possiamo diventare la nazione hub energia d'Europa. Non siamo messi bene, per questo servono scelte di buon senso, serve una strategia industriale che la nazione non ha da decenni. Così la Meloni parlando sul palco dell'Aquila. Noi abbiamo il mare, siamo una piattaforma nel Mediterraneo. Noi dovremmo essere la porta d'Europa. Se avessimo le infrastrutture, dreneremmo 70 miliardi di euro. I gasdotti, aggiunge, arrivano da noi. Possiamo diventare la nazione hub energetica d'Europa. Mentre Calenda sulle riforme dice Bicamerale è una buona idea, ma le emergenze del Paese sono altre. L'istituzione dice di una commissione bicamerale è una soluzione per discutere di riforme costituzionali. Dopo di che, purtroppo, il rischio di finire nel nulla è molto elevato. Il Paese ha ben altre emergenze da affrontare. La realtà è che le cose possono andare di pari passo. Non è che non puoi parlare di riforma costituzionale per il presidenzialismo perché hai altre priorità. Puoi parlare delle priorità e puoi parlare anche del presidenzialismo. Non è che devi fare una cosa alla volta. Puoi farne anche 50 insieme. Però questa è campagna elettorale. Si chiama propaganda. Quanto spendono i partiti? Questo l'abbiamo visto ieri. In testa c'è la Lega, poi la Meloni, poi il PD e, per ultimo, il Movimento 5 Stelle che non spende assolutamente nulla. Ad esempio, la Lega nell'ultimo mese ha speso 51.000 euro, Fratelli d'Italia 39.000 euro, PD 35.000 euro e il Movimento 5 Stelle 0. Letta poi aggiunge che quando Meloni era ministra i giovani erano disoccupati al 31%. Anche questa qui è una roba propagandistica che non vuol dire niente. La Meloni era ministro per i giovani ma non era né ministro del lavoro né ministro dell'economia. Ministro per i giovani non è che trova lavoro ai giovani. Insomma, queste uscite propagandistiche diciamo che fanno un po' pena. Discretamente pena, no? Ma lui, Letta dice, rovesceremo i pronostici e i sondaggi e dimostreremo che questo paese non torna indietro alla dittatura, no? Intende. La destra ha già governato. L'ultima volta che ha governato c'era anche la Meloni ministro. Premier era Berlusconi, ministro del Tesoro Tremonti, che oggi si ricandida. Quel governo fu costretto a dimettersi perché stava portando l'Italia in bancarotta. Quel governo, con Meloni ministro per i giovani, portò la disoccupazione dei giovani in soli tre anni, dal 21 al 31%, in 10 punti in più, no? Quindi il ministero per i giovani senza portafoglio, cioè un ministero che non vale niente, è responsabile della disoccupazione dei giovani. Pensate un po'. Credo che neanche Letta ci creda a quello che dice. Intanto i leader del centrodestra si danno appuntamento il 22 settembre, al 18, in Piazza del Popolo, a Roma. Intanto a Roma Melenchon, nel francese, va col pugno chiuso al grido di resistenza al comizio di Unione Popolare. Ma resistenza a chi? A che cosa? Beh, chi lo sa? Beh, ho qualche idea, qualche vaga idea. Conte attacca Giorgia Meloni, vuole la guerra civile, il programma del centrodestra è inadeguato per il paese. Perché? Perché la Meloni avrebbe detto che c'è il reddito della cittadinanza da riformare, perché è pieno di truffe e danni dello Stato, e bisogna rivedere a chi dare il reddito di cittadinanza, chiamandolo in un altro modo. Ovviamente questo è il, come si dice, il voto di scambio del Movimento 5 Stelle, ovviamente Conte lo difende, anzi lo vuole ampliare. Giorgia Meloni danni guadagna 500 euro al giorno pagati dai cittadini, dice Conte. Ora vuole togliere il reddito di cittadinanza togliendo la stessa somma al mese per chi non ha da mangiare. Non vorrà creare una guerra civile, la verità è che i programmi della destra sono inadeguati, insufficienti e campati in aria. Vediamo che poi a Cagliari c'è stata la manifestazione con Enrico Letta del PD e poi Landini dice che l'astensionismo riduce lo spazio della democrazia. Dice che la metà degli italiani non sa se andare a votare, in realtà l'astensionismo è sceso al 28%. Diciamo che questi politici sindacalisti, ma prima di parlare informatevi, informatevi, aprite qualche giornale, se non volete comprare i giornali aprite internet, guardate un po' le notizie, leggete anche i titoli, perché l'assenteismo, come cavolo lo vogliamo chiamare, quelli che dichiarano che non vorranno andare a votare, sono oggi il 28%, non più il 42%, il 28%. E tanto sì, ma non si può dire il 50%, la metà degli italiani non va a votare, perché non è vero. Franceschini, allarme democratico, sono d'accordo con Letta. Vabbè, anche Franceschini fa la spalla a Enrico Letta, che farnetica con l'allarme democratico. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.